buongiorno amici eccoci al nostro appuntamento con l'argilla e con il mio strumento preferito il filo da taglio oggi vi racconto una storia di separazione il filo di filo di filo di filo di filo il filo di filo di filo di filo il filo di filo di filo di filo poi si ritorna tutti insieme ok 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 ok